Grazie a tutti. Si parla dei miei film e sono vecchi amici che parlano, riconosco e mi interessa il modo come si prendono e se prendono il mio lavoro. Dall'altra parte si parla di maestri che devono venire in Sicilia a fare i film. Sono due cose che forse, in ogni caso a me, già che una parte di questi grandi maestri sono io, dal punto di vista della vanità, mi vanno molto bene. Io direi soltanto due cose e vorrei un po' chiedervi su questo punto che è un po' più radicale. Si parla di un certo tipo di cinema, del mio film o di altri film, come se fosse una cosa assolutamente normale. Invece questi film appaiono sempre per miracolo. C'è sempre solo una quantità di casi estremi che permettono di fare esistere un certo tipo di cinema, diciamo il cinema. Dall'altra parte c'è il fatto reale che ho potuto vedere qui, che con un gruppo di gente, giovani, meno giovani, abbiamo lavorato cinque giorni, che non è niente. Abbiamo una quantità di materiale visivi con cose molto, molto, per me, interessanti e belle. Dunque, io credo che dobbiamo fare un po' una discussione, io credo, io sento il dovere e la curiosità di fare una discussione che è un po' la ripetizione di una discussione del Seicento, che deve dire che stiamo in un punto dove dobbiamo difendere il cinema come arte. Cosa vuol dire? Si parla sempre un po' di disprezzo del mercato, semplicemente il mercato è già là e il disprezzo del mercato è già elemento del mercato. Dire che il film è commerciale di un modo negativo è un modo di vendere un film. Siamo nel punto che stava Velázquez quando ha fatto Las Meninas e ha dovuto fare questo manifesto, questo quadro che è un manifesto, indifessa, per difendere il carattere non artigianale, per lui è importante questo, il carattere artistico della pittura. E in questo momento, per tutti quelli, fra quelli evidentemente io, perché io faccio un cinema cosiddetto normale, siamo tutti costantemente in uno stato di difendere un lavoro cinematografico. Cosa vuol dire questo lavoro cinematografico, infatti? Si vuol dire semplicemente che il massimo di decisioni sono presse da una sola persona, che queste decisioni hanno un scopo soltanto artistico, né morale, né formale, né commerciale, né meno razionale, artistico. Invece tutti quelli che cercano di dialogare con la burocrazia europea parodica di Hollywood si trovano con vecchi funzionari, la più parte i ciecoslovacchi, paesi che non esiste, o giugoslavi, paesi che non esiste, o polacchi, paesi che esiste. Gente che viene dall'est, che soltanto dieci anni fa facevano il commissario politico, semplicemente per guadagnare soldi, non perché erano convinte, non avevano convinzione politica, e loro adesso, per guadagnare soldi, no per convinzione, cercano di fare un finto cinema commerciale. Questo finto cinema commerciale ha creato una struttura inquisitoriale europea, con molta forza, che costa miliardi, e che è fatta con l'unico, il solito scopo, l'unico scopo, di andare contro tutto, piccolo elemento di creatività, e per scoraggiare. Io non ho problema, io ho capito come fare film, credo lo posso fare in 8 mm, lo posso fare in 35, 7, l'ho fatto, e lo continuo a fare per un po' di tempo, non troppo, penso. Ma questi giovani che ho visto questa settimana, facendo film con elementi veramente interessanti, cosa faranno? Per quello, quando dico che, quando Antonio dice, un maestro, chiamiamolo Mastro, qualcuno che ha fatto un'opera Mastra, vuol dire un'opera conosciuta da gente che è più o meno come lui, basta, è già troppo. Un Mastro arriva, dovrebbe essere, secondo me, il dovere di far imparare alla gente che è qui, semplicemente perché è qui, perché è il prossimo, perché è quello, questo si chiama carità, è interessarsi nel prossimo, colui chi si interessa a fare i cinema e che è vicino a te. Ecco, questo è un punto. E l'altro punto è questa incredibile necessità, ma imperiosa, di difendere un lavoro che nessuno teoricamente contesta, che invece sottovoce si contesta, che è quello del cinema come un'arte. Nessuno di voi contesterà che il cinema è un'arte, invece è contestato dai documenti e dai regolamenti europei per fare il cinema. Dunque, se lo permettete, io vorrei spostare alla discussione dal mio cinema e dalla Sicilia, due punti che a me mi interessano molto, per punti che sono un po' prioritarie, senza i quali è veramente impossibile di andare avanti. Grazie. Grazie.